È prevista per venerdì 15 febbraio alle ore 18 presso la Basilica Pontificia che sorge ai piedi del castello di Castellabate una serata all'insegno di tanta musica. Ad esibirsi l'orchestra dei fiati giovanili del Cilento composta da ben 70 giovani musicisti tra i 10 e 25 anni, tutti provenienti dalla provincia di Salerno e soprattutto dal Cilento. Grazie ad un repertorio molto vario, fatto di brani originali per banda e strumentazioni di musica leggera, pop, musica cinematografica e napoletana, Sulle notte della vita è bella, Tamurriata nera, What Wonderful World, Amar Cord e tante altre, riusciranno ad accontentare tutti i gusti del pubblico ed a incantare ad ogni nota gli spettatori. L'orchestra di fiati giovanili del Cilento è nata dall'impulso dei maestri Alessandro Lo Schiavo e Leo Capezzuto, che hanno deciso dal 2016 di coinvolgere musicisti di alto livello e creare in pochi anni di attività una realtà riconosciuta a livello nazionale e già vincitrice di importanti concorsi musicali, sia nazionali che internazionali. Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato dall'assessorato al turismo e alla cultura. Per maggiori informazioni è possibile chiamare al numero 0974 96 23 28 oppure mandare un'email a turismo-cultura-chiacciolatiscali.it